laudentur jesus et maria fratelli amici e amiche carissimi siamo insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero dell'uomo che oggi avrà un capitolo abbastanza importante vasto e delicato cioè il tema della grazia è un tema importantissimo abbiamo visto già la predestinazione la giustificazione ma il tema della grazia è proprio il tema dei temi e la retta e corretta interpretazione di questo di questa problematica si perdono insomma se metto subito le mani avanti con l'introduzione un po d'assalto è assolutamente fondamentale per capire bene dei punti assolutamente fondamentali per quanto riguarda la nostra esistenza ma qui ci va anche ci si gioca anche la possibilità proprio della salvezza delle anime quindi non è un particolare assolutamente da trascurare ripeto se non si comprende bene questo tema si rischia di fare una brutta fine perché il nostro signore ci salva e ci porta in paradiso certamente però alle condizioni che lui stesso ha determinato e stabilito non alle nostre quindi ed è importantissimo comprenderle bene perché la grazia funziona in un certo modo non in altri la problematica della comprensione della grazia ha dato origine delle grandissime eresie nel corso della storia ma oggi serpeggia in maniera molto 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 diffusa a vari livelli nel contesto di crisi ecclesiale di cui ormai si si parla e purtroppo ha ragione veduta da diversi lustri dentro un mare magnum da cui non sembra esserci via uscita tanto per fare un esempio qualche esempio introduttivo e di vita comune perché le grandi questioni teologiche poi non sono questioni accademiche tipo la controversia dei auxilis che hanno fatto e sono messi a litigare per secoli secoli forse forse secoli sì eh domenicani e gesuiti fino a far intervenire i papi a dirimere queste queste questioni no vi faccio subito un esempio se uno non va in chiesa da tanto tempo magari va a un funerale dopodiché durante il funerale si sente di andare a fare la comunione e dice ma no io devo andare a fare la comunione a questo povero disgraziato tanto il signore capirà pensando di fare una cosa buona o pensando di fare una cosa buona se lo sente quello non fa una cosa buona quella comunione non serve a niente né a lui né a colui per cui la fa e questo vale anche mi dispiace dirlo tanto per fare un esempio dato che ho fatto questo esempio anche per i familiari stretti cioè se dovesse Dio non voglia morire il padre, la madre, il marito, la moglie Dio non voglia il figlio e tu sei uno che non mette i miei piedi in chiesa e non ti sei confessato non è che dici vabbè è morto mio figlio il signore capirà no il signore non capirà non capisce capite il senso in cui sto dicendo questa cosa no? non capisce perché per accedere alla comunione sacramentale e perché quella cosa sia una cosa che ti faccia bene non diventi la tua condanna tu devi essere in grazia di Dio la grazia di Dio non è una cosa che ti senti o non ti senti no la grazia di Dio di cui non possiamo lo vedremo essere certi al cento per cento nessuno può essere sicuro però possiamo ragionevolmente presumerla questo sì però per ragionevolmente per ragionevolmente presumerla ci vogliono delle condizioni imprescindibili che non è che Dio capisce se non ci stanno non capisce manco per niente non perché è privo di intelletto specifichiamo perché se no vedete che succede quando anche qualche mio caro confratello dice non vi azzardate a far circolare il mio materiale tagliato immaginate che uno estrapola 5 secondi di quello che ho detto dove dico Dio non capisce ah Don Leonardo ha detto che Dio non sarebbe intelligente capite no? se esce fuori il contesto va bene quindi questo tanto per fare un'introduzione i cicli di catechesi diciamo così formativi come questo sono importanti perché nelle cose del cielo nelle cose della fede noi non possiamo andare avanti a mi sento e non mi sento ecco c'era una persona a me cara che diceva quando qualcuno su queste materie diceva mi sento o non mi sento dice no tu te senti il mal di panza come dicono dalle parti di Roma ecco non è che qui ti senti o non ti senti qui ci stanno delle cose oggettive che dobbiamo conoscere però perché se uno va a fare una comunione sacrilega non è che quando muore può andare a dire ma signore mi perdona io in quel momento me lo sentivo ma che te sentivi nella sacra scrittura nel nuovo testamento nella lettera di San Paolo c'è scritto chiaramente chi si accosta indegnamente al corpo del Signore mangia e beve la sua condanna c'è scritto la condanna e attenzione non è che la condanna dipende dal fatto che cambia cioè che il corpo di Cristo non è più il corpo di Cristo il corpo di Cristo rimane sempre il corpo di Cristo e quella cosa è di per sé santificante all'ennesimo livello il problema è che bisogna vedere chi incontra il corpo di Cristo faccio un altro esempio il Dio che rende beati gli abitanti del paradiso è lo stesso che soltanto a essere nominato terrorizza i dannati è lo stesso non è che Dio si fa vedere bello in paradiso poi quando tra virgolette in qualche modo si manifesta nei modi che lui sa che non sappiamo neanche bene quali sono all'inferno come dire come dire si manifesta in maniera terrorizzante così li deve terrorizzare è lo stesso il problema è che mentre i beati hanno le disposizioni per avere la visione beatifica all'inferno c'è la contraddisposizione per l'antonomasia per cui quello che è in sé la bellezza e la santità a loro sembra l'orrore assoluto colui da cui bisogna scappare in maniera perentoria spero di riuscire a spiegarmi bene su queste cose spero queste sono semplicemente le premesse per capire che tipo di discorso adesso andiamo ad avviare la delicata problematica della grazia chiude il cerchio su questa sezione di questo ciclo di catechesi appunto dedicata alle grandi tematiche della predestinazione della giustificazione e adesso appunto della grazia che andremo ad analizzare con questo a scaletta alcune premesse come sempre alcune cose fondamentali della sacra scrittura e poi i due come dire le due colonne che hanno parlato della grazia i due si potrebbe dire se non è offensivo i due mostri sacri questa è un'espressione che si usa un po' credo per il mondo dello spettacolo cioè geni che si trovano su altri pianeti ecco sono Sant'Agostino e Sant'Ommaso ma poi soprattutto dovremo andare a vedere le affermazioni vincolanti del concilio di Trento al riguardo e poi trarre alcune conclusioni ora in linea di massima che cos'è la grazia la grazia è fondamentale è un abito dice Sant'Ommaso e alla sua sostanza che cosa conferisce questo abito un modo di essere soprannaturale dato da Dio allo scopo di realizzare la divinizzazione dell'uomo stesso cioè una abilitazione ad essere ed agire in modo divino cosa che peraltro comporta quella che tecnicamente si chiama qui purtroppo ci sono un po' di paroloni l'inabitazione trinitaria cioè per mezzo della grazia la Santissima Trinità abita stabilmente in noi come in un tempio la Santissima Trinità come in un tempio è roba grossa figlioni miei cari non è roba piccola volendo farla molto più semplice divulgativa al 100% anche se chiaramente non così precisa da un punto di vista teologico noi sappiamo che la terza persona della Santissima Trinità è lo Spirito Santo e sappiamo anche che allo Spirito Santo si attribuisce l'opera della nostra santificazione no solo che quando dico Spirito Santo io parlo della terza persona della Santissima Trinità così come è nella Trinità quindi in Dio stesso se uso il termine grazia faccio riferimento alla Santissima Trinità così come agisce nelle anime che santifica quindi dire grazia è dire lo Spirito Santo in quanto opera in noi è una semplificazione però molto vicina al vero ora mi sembra di aver già detto a proposito anche dei temi della giustificazione e della predestinazione che la teologia occidentale latina accentua di più il carattere della remissione dei peccati nel processo della giustificazione ci sono due elementi l'eliminazione del peccato e appunto la santificazione che si realizza attraverso la grazia prima si rimuove il male che c'è e poi si coltiva non le virtù infuse ecco in Oriente l'aspetto della divinizzazione dell'uomo è molto accentuato cioè la sioma Cristo si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio che peraltro è espresso in maniera molto semplice e graziosa da un popolarissimo canto che si usa nelle liturgie eucaristiche anche molto semplici Dio si è fatto come noi per farci come lui dice una cosa molto molto vera esprime questo alto concetto teologico ecco quindi quello di cui stiamo parlando costituisce un punto proprio fondamentale lo ho già detto decisivo sia per la teologia che per l'intero cristianesimo in particolare per il cattolicesimo ora per quanto riguarda un rapido sguardo sulla grazia nella saga scrittura nell'antico testamento il concetto di grazia è espresso dalla parola ebraica chesed che si può tradurre con benevolenza misericordia favore la stessa alleanza da parte di Dio perché Dio entra in alleanza stipula l'alleanza l'alleanza con Dio è chiaro che chi è il termine avvantaggiato quale vantaggio c'ha Dio a stare in alleanza con noi nessuno quindi l'alleanza è fondamentalmente un dono di grazia di Dio all'uomo perché l'alleanza promette il favore la benedizione di Dio sui destinatari dell'alleanza e in cambio chiede fondamentalmente l'osservanza delle condizioni poste da Dio ad Abramo la circoncisione a Mosè l'osservanza dei comandamenti e di tutte quante quale norme rituali che caratterizzano la vita del popolo ebraico questo è in due parole alleanza che si sigilla nel sangue con dei riti sacrificali ad hoc ecco perché la nuova alleanza è stata sigillata anch'essa nel sangue lo ascoltiamo tutti i giorni per chi la frequenta quotidianamente durante la Santa Messa la formula della consagrazione del calice questo il calice sanguinimeis i nuovi et eterni testamenti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza nel nuovo testamento il concetto di grazia è espresso dalla parola charis charis no e anche qui la charis piena di grazia è appunto charis da cui c'è il verbo carizzo piena di grazia in greco è che caritomene piena di grazia perché carizzo significa avere la grazia ecco e che cos'è? è la benevolenza di Dio manifestata fondamentalmente nell'opera salvifica realizzata da Gesù quello che è il regno di Dio è inaugurato da Gesù ma non ancora compiuto perché noi tutti i giorni nel Padre Nostro diciamo venga il tuo regno ma certamente nel regno di Dio non si entra se non attraverso la grazia Gesù dice chiaramente nel Vangelo di San Giovanni se uno non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio non può vedere il regno di Dio noi abbiamo l'accesso al regno di Dio che cos'è fondamentalmente il regno di Dio cioè in un regno in qualunque regno normale lo capiamo no? c'è un re e ci sono dei sudditi c'è un re che comanda e dei sudditi che obbediscono quindi il regno di Dio non è altro che quella condizione in cui l'uomo dopo averla conosciuta cosa fa? ama con tutto il cuore e fa la divina volontà quello che Dio vuole che è il sommo bene per noi così come ciò che si distacca dalla volontà divina il sommo grado anzitutto che è il peccato è il sommo male per noi e la morte piuttosto che il peccato la morte piuttosto che il peccato parlavo nei giorni scorsi con una persona scusate faccio sempre sempre esempi un po' un po' forti che diceva ma allora con i tempi che viviamo se uno volesse specialmente se aveva una certa età intraprendere un fidanzamento casto diventerebbe molto difficile stare vicino a qualcuno e quindi sposarsi quindi in questo caso che facciamo io girerei questa domanda agli ascoltatori che facciamo vedete quanto è importante essere formati in un certo modo cioè vabbè qui se non se non cediamo su questo punto cioè nessuno me se piglia qualcuno me se dovrà pure piglià cediamo tutto normale va bene questo discorso non per la lettera agli ebrei non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato non per la testimonianza che hanno dato i santi se il prezzo da pagare per arrivare al matrimonio è che devo fornicare perché così si chiama la congiunzione che noi vogliamo dal matrimonio che è un peccato gravissimo se non c'è altro se non ci fosse altro sistema che facciamo è meglio cedere o è meglio non sposarsi scusate se sono così diretto io però devo sempre come dire in un contesto catechetico fornire alle persone stimoli di riflessione o se qualcuno dice guarda donna io ti dico che è meglio cedere d'accordo e ti dimostro che questo è un ben oggettivo per me io sono tutto orecchi sono tutto orecchi non è che voglio imporre niente a nessuno la verità non si impone la verità come dire si non si impone con la violenza ma come dire in un certo senso si impone con la sua come dire autorevolezza cioè con la sua incontrovertibilità perché quando una persona ha la coscienza retta e il cuore aperto alla verità ci arriva e se uno la verità la conosce alla verità deve cedere forza con un atto libero volontario ma deve cedere allora nel nuovo testamento ci abbiamo due grandi cantori della grazia di dio che sono due figure non alternative ovviamente ma complementari abbiamo anzitutto l'apostolo Paolo San Paolo che è stato il grande come dire teologo maestro della giustificazione della dottrina della giustificazione come abbiamo detto nelle puntate precedenti specificando anche come questo concetto sia stato del tutto travisato nell'ambito della riforma protestante operata da Martin Lutero ora in San Paolo il concetto di grazia è diverso da quello di giustificazione il concetto di giustificazione è più ristretto perché la giustificazione accentua proprio la dimensione della remissione del peccato cioè Dio ti prende un peccatore e da peccatore lo rende giusto fondamentalmente come? accordandoli la remissione dei peccati con il concetto di grazia evidentemente si intende anzitutto la giustificazione ma anche la santificazione ecco questi concetti da San Paolo sono particolarmente sviluppati nella sua caratteristica bellissima anche per certi aspetti anche unica teologia battesimale lui elabora tutta quanta la dottrina battesimale perché proprio il battesimo è esattamente la concretizzazione proprio primaria e fondamentale di ciò che la grazia è perché il battesimo è appunto sepoltura dell'uomo vecchio l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrice l'uomo che ha peccato è nascita dell'uomo nuovo che attraverso le virtù e la vita di grazia può e deve tendere alla santità vediamo qualche brano perché un minimo accenno è doveroso farlo cominciando da romani 6 2 11 che dice così non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo siamo stati battezzati nella sua morte per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre così anche noi possiamo camminare in una vita nuova se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua lo saremo anche con la sua risurrezione sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato infatti chi è morto è ormai libero dal peccato ma se siamo morti con Cristo crediamo che anche vivremo con lui sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più la morte non ha più potere su di lui se dovessi commentare questo brano faremmo tutta fine abbiamo finito la catechesi andiamo anche oltre il tempo per quanto riguarda la sua morte egli morì al peccato una volta per tutti ora invece per il fatto che egli vive vive per Dio così anche voi consideratevi morti al peccato ma viventi per Dio in Cristo Gesù allora chiaro no? Gesù passione morte e risurrezione perché Gesù ha patito ed è morto per cancellare i nostri peccati perché Gesù è risorto cosa fa Gesù risorto appena appare la sera gli apostoli ricevete lo Spirito Santo quindi oltre alla remissione dei peccati alla cancellazione dei peccati ti infondo lo Spirito Santo perché perché tu possa camminare in una vita nuova per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte battezzati nella sua morte perché come lui fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre così anche noi possiamo camminare in una vita nuova e attenzione Cristo risorto dai morti non muore più la morte non ha più potere su di lui quindi anche voi consideratevi morti al peccato vedremo che San Giovanni dice la stessa cosa quando dirà questo dobbiamo mettercelo bene in testa chiunque è nato da Dio non pecca chi pecca non lo ha mai visto né conosciuto quando ho fatto adesso andate a vedere i video perché non so dove potrete andarle a trovare ma ne ho parlato di queste cose ne parlo anche spesso fuori con testi di predicazione pubblica voi sapete che una volta il sacramento della penitenza la penitenza parte il fatto che nei primi secoli della chiesa non abbiamo fonti può darsi anche che c'era qualcosa ma non ce le abbiamo fonti che parlano del sacramento della penitenza semplicemente perché non c'era perché cioè per un cristiano non si può parlare di peccato in senso stretto l'ho spiegato tante volte e ripeto il peccato in senso stretto è il peccato volontario cioè quello che ho messo ad occhi aperti soprattutto in materia grave cioè non è possibile che una persona che ha rinnegato il peccato perché se quando venivano battezzati gli adulti se tu non rinnegavi il peccato non venivi battezzato tanto semplice se tu non davi dimostrazione durante il tempo di preparazione al battesimo che tu non vivevi più come un pagano ma vorrei vivere come un cristiano il battesimo non ti veniva dato quindi morto al peccato nato alla grazia il peccato non c'è più è chiaro che la chiesa non ci fa mentire quando ogni volta che andiamo a messa ho molto peccato in pensieri parole allora che ho fatto ho peccato o non ho peccato sono peccatore o non sono peccatore sono peccatore in senso lato si dice cioè commetto innumerevoli mancanze peccati e negligenze che per chi ha i capelli sono più dei capelli del mio capo dice un zanno ok la sacra scrittura dice che il giusto pecca sette volte al giorno quindi quando andiamo a dormire la sera stiamo proprio tranquilli che sette ce li abbiamo sulla coscienza ma non ne vedo manco uno non li vedi ma ce l'hai ecco il fatto che uno non lo vede è una spia perché vuol dire che se tu non lo vedi sicuramente non l'hai commesso ad occhi aperti mi spiego se invece tu hai dato un pugno in faccia a uno non è che non lo vedi lo vedi ma un cristiano un pugno in faccia a uno non lo dà se è cristiano così come un cristiano lasciamo perdere il pugno come manifestazione di violenza fisica ti pare che un cristiano manda a quel paese dice vaffa perdonatemi di prolinzio a un altro un cristiano un'espressione così così brutta di una volgarità inaudita e così offensiva se lo dici non sei cristiano se sei cristiano non lo dici cioè il peccato questo si dobbiamo mettere in testa cioè dire il cristiano è peccatore in senso stretto è uno simoro sapete cos'è uno simoro è una parolaccia cioè è un'espressione è una frase che dice un'assurdità perché se sei cristiano non sei peccatore in senso stretto non in senso lato se sei peccatore in senso stretto non sei cristiano mi spiego bene questo San Paolo dice consideratevi morti al peccato dice Cristo riuscirà dai morti non muore più la morte non ha più potere su di lui che significa traslare questo concetto alla nostra vita di grazia la morte non ha più potere cioè il diavolo è inutile che mi che mi tenta capite noi dobbiamo tenere presente che ci abbiamo la volontà eh ma padre c'è questo brutto vizio come faccio a toglierlo allora la nostra volontà è certamente debole poi se hai perso la grazia di Dio quindi che stai in stato di peccato mortale il vizio non te lo toglierai mai da solo ok lo vedremo perché senza la grazia di Dio non possiamo fare nulla ti fai una bella confessione e ti rimetti in grazia però attenzione in forza di quella confessione dove tu vieni riconciliato con Dio e ti viene reinfusa la grazia tu puoi fare un atto di volontà e dire basta basta ed è proprio questa la conversione perché perché Cristo risuscitato dai morti non muore più la morte non ha più potere su di lui non può non c'è non esiste una vita cristiana che passa di peccato mortale in peccato mortale di peccato mortale in peccato mortale cioè racconto una non è un aneddoto è una storia vera perché questa cosa a me è successa ci deve essere ancora online anche il come dire la catechesi una volta stavo facendo una catechesi quando ancora diversi anni fa facevo una trasmissione su radio Buon Consiglio c'era una che si chiamava tu per tu con il settimanale di Padre Pio dove c'era il caro amico spero che stia bene Pio Manelli con la moglie che prendendo qualche articolo del settimanale di Padre Pio dove ho scritto per tantissimi anni facevano una trasmissione no? come scrivevo un sacco di cose anche sul giornale ogni tanto mi chiamavo in trasmissione a commentare un articolo scritto da me ce n'era uno probabilmente che parlava della confessione a un certo punto uno in diretta che poi dopo che tu parlavi un po' rispondendo a queste domande facevano intervenire le persone e un tizio mi fa allora padre se ho capito bene quello che ha detto mi sa che quello che io sto facendo non va bene dico cioè no perché io sinceramente con mia moglie uso la contraccezione l'ha detto lui in diretta tanto non faccio il nome anche perché non lo ricordo non è una confessione era una trasmissione pubblica quindi si può raccontare questa cosa e io vado però voglio fare la comunione anche sui contraccettivi allora che succede abitavo in una grande città una domenica vado in una chiesa X mi confesso che ho usato in settimana i contraccettivi mi dà l'assoluzione faccio la comunione poi la domenica dopo vado in un'altra parrocchia e mi confesso che ho usato i contraccettivi mi dà l'assoluzione e faccio la comunione così tutte le domeniche faccio tutto l'altro giro 100 parrocchie dopo con lo soffitto e tutto il 100 che ricomincia dalla prima quello si è dimenticato che ma capite il cervello degli uomini capite il cervello degli uomini come funziona dico non è che ti devo rispondere ti ho già risposto durante quello che ho detto si 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 ho capito ho capito quindi mi sa che sto inguagliato dico vedi un po' un altro passaggio della lettera sempre delle lettere sempre di ne vediamo soltanto qualcuno Colossesi 2 11 13 andiamo un attimo a leggerlo al volo ripeto il commento è abbastanza cioè mi quasi vergogno di commentare steste cose veramente sul brano di prima non basterebbe nemmeno una catechesi di un'ora quindi l'apostolo mi perdonerà è sempre la stessa cosa in lui in lui cioè in Cristo voi siete stati anche circoncisi vedete anche il legame tra il battesimo e la circoncisione di una circoncisione però non fatta da mano di uomo mediante la spogliazione del nostro corpo di carne ma della vera circoncisione ma della vera circoncisione di Cristo con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo e in lui siete stati insieme anche risuscitati per la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti vedete sepoltura e risurrezione con lui Dio ha dato vita anche a noi anche a voi scusate che eravate morti per i vostri peccati e per l'incirconcisione della vostra carne perdonandoci tutti i peccati San Tommaso spiega benissimo come la circoncisione per gli ebrei era la figura del battesimo per noi di quello che sarebbe stato il battesimo per noi cioè quella circoncisione nella carne proprio lì poi capite in quel membro era come dire il segno che per essere membro del popolo eletto tu devi tagliare con certi peccati tagliare circoncidere c'è un taglio ok proprio in un posto quindi vuol dire che specialmente con certi peccati se fai parte del popolo eletto tu ci devi tagliare abbiamo capito non è che lo devo spiegare per un battezzato questo vale maggiore razione perché per tutti quei peccatacci soprattutto quelli fatti attraverso la carne il nostro signore è stato massacrato nella carne quando si contempla la passione cruenta di Gesù violenta se uno ha chiara la giustizia di Dio che esige una soddisfazione riparazione ed espiazione della colpa con un atto uguale e contrario rispetto alla modalità con cui è stato offeso ci pensi prima di fare certi peccati Gesù non ha sofferto soltanto nella carne molto più grandi sono state le sue sofferenze affettive e più grandi ancora quelle spirituali non ci sono solo i peccati della carne ci sono anche i peccati spirituali sono anche i peccati che si commettono con i desideri con gli affetti però per i peccati commessi con la carne è stato massacrato e quindi può un cristiano andare a fare questi peccati lo può soltanto in tempi di decadenza della fede cioè è stata rovesciata una cultura creata dal cristianesimo in due millenni quella cultura io sono di latino l'ho detto tante volte cioè la padrona di latino è Santa Maria Goretti una bambina di undici anni gli si avvicina un tizio che la voleva cioè ma voi capite che una cosa ma non esiste una cosa del genere d'accordo non c'è non esiste ciò che oggi si fa con estrema disinvoltura il rapportino prematrimoniale che gli fa ma non esiste che ma ammazzi ma prego accomodati non esiste quindi prendiamo insomma coscienza del tasso di di corruzione in altri luoghi San Paolo insiste fortemente sul dono dello spirito la grazia è lo spirito santo in quanto agente e operante noi avete ricevuto lo spirito santo avete ricevuto lo spirito santo possiamo leggere un versetto della prima lettera di corinzi capitolo 15 al versetto 45 che dice così il primo uomo adamo divenne un essere vivente ma l'ultimo adamo divenne spirito datore di vita il primo uomo tratto dalla terra di terra il secondo uomo viene dal cielo quale è l'uomo fatto di terra così sono quelli di terra ma quale è il celeste così anche i celesti e come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra così porteremo l'immagine dell'uomo celeste attraverso la grazia ancora questo vi dico fratelli la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio la carne e il sangue né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità vedete anche qui San Paolo e San Giovanni hanno degli stili differenti ma qui sembra un eco del prologo del Vangelo di San Giovanni non da volere di carne non da volere di uomo non da sangue non da volere di carne non da volere di uomo ma da Dio sono stati generati quelli che credono nel suo nome ciò che è corruttibile non può ereditare l'incorruttibilità volendo poi andare ad approfondire appunto il complemento di San Giovanni di San Paolo che è appunto San Giovanni Apostolo San Giovanni Apostolo accentua molto questa dimensione la dimensione della santificazione come partecipazione alla vita in greco zoe divina ora la vita divina si comunica col battesimo Giovanni 3 5 chi non rinasce dall'alto non può entrare non può vedere il regno di Dio e questa rinascita dall'alto poi si cresce si alimenta con l'eucaristia il discorso della sinagoga di Cafarna capitolo 6 1 13 se non mangiate la mia carne non bevete il mio sangue non avrete in voi la vita chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna cioè la vita divina è la stessa cosa vita eterna chi è che è eterno è Dio eterno quindi dire vita eterna vuol dire c'è la vita mia in te non è che che sarà la vita eterna cioè ha la vita eterna non soltanto che quando sarà morto andrà in paradiso ma ha la vita divina in sé però chi è che può fare l'eucaristia solo chi è battezzato e perché chi è battezzato perché chi è battezzato sta in grazia ha avuto la remissione dei peccati e l'infusione della grazia si può dare l'eucaristia o non battezzato assolutamente no ma si può dare l'eucaristia a un peccatore senza confessione assolutamente no altro aspetto non li sto leggendo li sto citando dove San Giovanni accentua la dimensione della grazia è per esempio il discorso di addio di Gesù capitoli 14 e 16 del Vangelo dove ci sono cinque riferimenti lo spirito santo lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome egli mi darà testimonianza e voi anche mi renderete testimonianza lo spirito santo vi guiderà alla verità tutta intera altro aspetto molto molto importante no e via dicendo poi ci sono nel capitolo 15 per esempio del discorso da Dio la vita la vita è tracino senza di me non potete fare nulla dire questo è la stessa cosa che dire senza la grazia di Dio tu non combini nulla di buono o meglio di soprannaturalmente buono quindi su questo punto questo è un ciclo di catechesi evidentemente divulgativi non stiamo facendo lezioni di teologia no perché questo sarebbe assolutamente insufficiente diciamo a fare la parte biblica sulla grazia però qui si danno semplicemente dei dei decenni degli spunti per introdurre il discorso no allora Sant'Agostino vediamo se riusciamo a fare sì credo di sì poi ci fermiamo rilasciando una puntata intera al grande Sant'Omaso Sant'Agostino è chiamato il dottor grazie anzitutto il dottore della grazia quindi abbiamo visto che nelle dottrine sulla predestinazione e la giustificazione Sant'Agostino si è fatto un pochino trascinare dalla verve polemica quindi lasciando delle espressioni che purtroppo è chiaro che lui nella testa sua no ma appunto per la veemenza con cui sono state formulate e per il contesto polemico in alcune circostanze purtroppo sono state o strumentalizzate o fuorviate ma sulla grazia Sant'Agostino è stato grandissimo e apposto le basi di tutta la teologia della grazia ora ha combattuto a riguardo contro Pelagio però Pelagio era un monaco era un monaco che purtroppo sapete che su questo versante ci sono due estremi che accentua troppo la capacità dell'uomo e la dimensione della volontà cioè fondamentalmente io ho la volontà e quindi quella è la cosa importante e attraverso questo mei santifico chi invece dalla sponda opposta guarda per esempio Lutero esalta in maniera esorbitante unilaterale e quindi sbagliata la grazia minimizzando anzi riducendo al nulla l'apporto della volontà dell'uomo non funziona così perché come vedremo più avanti la grazia di Dio opera nella e con la volontà dell'uomo e la volontà dell'uomo senza la grazia di Dio non opera niente di buono ma vanno insieme ora secondo Pelagio addirittura secondo lui la grazia si riduceva al libero arbitrio e a quella che lui chiamava l'impeccanzia in latino cioè la capacità di non peccare ma non è così Sant'Agostino diceva noi il libero arbitrio ce l'apriamo e come? ma è una cosa distinta dalla grazia perché il libero arbitrio senza la grazia purtroppo è incapace di operare il bene dopo la condizione di decadenza del peccato originale questo lo avrebbe detto anche Sant'Omaso cioè mettiamoci bene in testa un peccatore in senso stretto non esce da quella situazione e non è capace di operare alcun bene quantomeno soprannaturale impossibile non solo un peccatore privo della grazia di Dio non può non peccare è impossibile perché non lo può fare non ha la forza di farlo perché senza la grazia di Dio noi siamo realmente schiavi del peccato ce l'hai libero arbitrio sì ce l'hai ma non puoi da te stesso svincolarti da questa galera e sotto questo punto di vista Sant'Agostino accentua come la grazia sia un dono gratuito di Dio nessuno di noi la può meritare in senso stretto quindi secondo Sant'Agostino la grazia è un aiuto soprannaturale gratuitamente dato a noi dal Signore per operare il bene il bene che viene aggiunto alla natura la natura umana creata con il libero arbitrio e attenzione alla dottrina allora un uomo per operare il bene ha bisogno di tre cose primo ciò che appartiene alla sua natura il libero arbitrio secondo ciò che acquisisce cioè la conoscenza Dio prima di dare la grazia scrive San Paolo ha dato la legge la grazia non è che abolisce la legge no la grazia dà la capacità di osservarla perfettamente la legge non soltanto nella versione antica ma anche nella versione portata a perfezione data da Gesù nel Vangelo capiamo capiamo come funziona libero arbitrio che prima della giustificazione è legato al peccato dopo la giustificazione diventa capace di esercitarsi scegliendo scegliendo il bene e il male e optando per il bene solo che il bene prima lo devi conoscere e quindi ci vuole la legge e poi devi avere quell'aiuto divino perché il libero arbitrio di per sé adesso tende al male per aderirvi che è la grazia non è tanto difficile no? ora sempre secondo Sant'Agostino chiudiamo la grazia rimuove due ostacoli la grazia che noi abbiamo operando in noi ci libera sempre di più da queste due condizioni miserevoli primo l'ignoranza della mente e secondo la debolezza della volontà ovviamente il secondo è molto più difficile a rimuoversi del primo però con la grazia di Dio la volontà si fortifica e diviene capace di operare il bene quindi quello che produce la grazia nell'uomo che l'accoglie che con essa coopera è una reale divinizzazione dell'uomo chi è che ci ha donato la grazia evidentemente domanda retorica è Cristo in quanto uomo Dio perché lui restando quello che era frase cult tipica della patristica è diventato ciò che non era cioè uomo quindi ha preso ciò che è nostro la natura umana per darci ciò che è suo la natura divina e attenzione il fondamento della grazia e della possibilità della divinizazione qual è? è che noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio ma Sant'Agostino usa un'espressione molto bella che è l'uomo come capax dei cioè capace di Dio cioè perché noi siamo immagine e somiglianza di Dio sono stati fatti da lui abbiamo la possibilità di accogliere la grazia che supera le possibilità della natura creata in quanto tale però poggia su di essa da questa considerazione attenzione deriva una cosa molto importante e qui chiudiamo tanto la riprenderemo perché ne parla anche San Tommaso la dico in latino grazia supponit naturam ac perficit tradotto la grazia presuppone la natura e la porta a perfezione che significa questa frase si dice che noi non dobbiamo immaginare i santi come persone un po' capite che è arrivato un miracolo e dall'oggi al domani chissà che è successo certo una conversione per chi era un grande peccatore ci può essere stata e la conversione è il più grande miracolo che ci possa essere però la grazia tanto più opera in noi quanto più noi cooperiamo con lei uno due se la natura a un certo punto si corrompe la grazia che farà facciamo un po' di esempi limiti una persona che ha dei problemi psicologici profondi esistono queste cose squilibri o addirittura nevrosi psicosi vediamo la grazia che cosa farà domanda cattivina allora se la persona non affronta certe cose l'ho detto in altre catechesi e non le sistema la grazia non supprirà perché se io sono una persona che si porta dietro delle ferite per cui c'è dei pattern che partono in automatico ha voglia a far osari ha voglia ad andare a messe alcune situazioni non le sboccherai mai e il potere della grazia in te in te non in sé perché il potere della grazia in sé è portare alla santificazione perfettissima chiunque ma se la grazia cade in un recipiente che ha delle falle ha dei bug quelli non vengono risanati dalla grazia in quanto tale un'altra conseguenza di questo principio è che noi possiamo chiedere a Dio dei miracoli a me certo ma quando si tratta di cose che sono al di là della nostra portata io posso chiedere a Dio senti toglimi le bestemmie questo è una bella preghiera se sono un bestemmiatore fammi smettere di bestemmiare questa è una bella preghiera però come farà Dio a farti smettere di bestemmiare punto interrogativo questo è fondamentale figlioli mi cari sto continuando a bestemmiare quindi vuol dire che Dio non mi aiuta no no perché Dio te la toglierà la bestemmia ma tu devi fare un fermo proposito devi impegnare con tutto te stesso a metterci punto perché se tu non fai questo ha voglia di fare questa preghiera toglimi le bestemmie spero che si capisca quello che sto dicendo cioè la grazia non opera in noi senza di noi o contro di noi la grazia opera in noi con noi quindi con la nostra cooperazione che la stessa per carità suscita e previene ma il nostro libero arbitrio e la nostra volontà rimangono sempre integri e in tante per cui se non si mettono a cooperare con la grazia la grazia c'è ma produce effetti limitati perché trova delle anche certe concezioni ma allora ma quello è un prete mi ricordo c'era un formatore avevano stato al seminario tra le poche cose buone che disse ma ma come è possibile che ci stanno dei preti che hanno dei problemi grossi quanto una casa o che hanno dei vizi grossi quanto una casa sapete che ci diceva questo qui ma scusate ma se una persona arriva all'ordinazione che c'è dei problemi risolti o dei vizi praticati lo spirito santo che cosa consacra qualcuno gli rispose quello che trova risposto bravo consacra quello che trova non è che lo spirito santo scendendo dentro le vede per l'ordinazione sacerdotale magicamente ti rimuove tutti quanti i problemi ti toglie tutti quanti i vizi ormai tu sei diventato l'uomo di Dio sei una persona sacra perché c'è l'ordine sacro e quindi ma questo guardate che un sacco di gente come dire lo pensa pur senza pensarlo in maniera tematizzata ma lo pensa ma quello è un prete e allora il prete riceve dallo spirito santo una capacità ben specifica che è la possibilità di agire in persona a Cristi cioè proprio la caratteristica dell'ordine sacro il potere sacramentale è la potestà d'ordine per questo che peccatore o non peccatore battezza solve consacra ma la santità personale non c'entra niente con l'ordine sacro è come dire una condizione presupposta cioè non ti devi azzardare a farti ordinare prete non dico se non sei già diventato santo ma se almeno non lotti contro il peccato almeno grave che non lo commetti capite quindi spero di aver reso l'idea insomma di queste prime battute della importanza di questa tematica bene amici laudentur jesus et maria e dio vi benedica e la santa vergine vi protegga non c'entra non c'entra